Due giorni fa erano a Firenze per protestare agli operatori del turismo e titolare di agenzie di viaggio, messe in crisi dalla pandemia. Finalmente l'icona è arrivata anche alla prima tranche per i dipendenti in cassa integrazione, adesso si guarda altre juniori, apertura ma lavoro limitato. Cercheremo sicuramente di promuovere il mare Italia laddove saremo sicuri delle normative in loco, dei servizi fruibili in loco per poterli spiegare al meglio ai nostri clienti e per poterli consigliare al meglio. E per l'estero? Fino a che non siamo sicuri di quello che si può fare o non si può fare all'estero, ovviamente i nostri clienti non sono cavi e non li manderemo a sperimentare situazioni e di conseguenza cercheremo di consigliarli al meglio e di rifarci ad informazioni sicure e chiare. C'è poi un segmento importante, quello dei cittadini stranieri che vivono in Italia. Cercheremo insieme alle compagniere piano piano che stanno rimettendo i voli di far tornare questi nostri clienti e di fare riprendere le loro attività qua in Italia.